Da una disattenzione difensiva nasce così il gol di Fahm. Marchesi fa una smorfia, alla fine dirà. Ma Juventus che non ha meritato sicuramente di far risultato, ha brutto partita da parte nostra e l'Inter ha vinto giustamente. Messo a segno da Garlini, che a qualche tifoso fa dimenticare persino Calle Rummeniglia. Trappattoni è contento, la crisi è forse passata. Non siamo riusciti a mantenere calma, a mantenerci sereni, nonostante attorno a noi c'era un po' di burrasca per le tre sconfitte. Questo oggi è stato riproposto e questo dimostra che sette mesi di lavoro non sono stati buttati al vento.